Giustizia, Bene Comune. Spazio in collaborazione con FederConsumatori Rimini. Realizzato nell'ambito del Programma Generale di Intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2015. Ben ritrovati all'appuntamento con Giustizia Bene Comune, la nostra trasmissione realizzata in collaborazione con la FederConsumatori di Rimini. Oggi un argomento particolarmente interessante, almeno credo che riguardi un po' tutti, perché a tutti è capitato di rispondere a quelle simpatiche, ed è un eufemismo, telefonate che arrivano, di chi ti propone un servizio, chi ti chiede questo, chi ti mette sul piatto offerte imperdibili. C'è un nome tecnico, teleselling o telemarketing, e noi cerchiamo oggi di capire come ci si può difendere da tutto ciò e se c'è qualche arma per farlo, e lo facciamo con l'avvocato Enrica Tosi, della FederConsumatori di Rimini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, prima di tutto spieghiamo, per i pochi che non lo sapessero, cosa si intende quando si parla di telemarketing, di teleselling? In generale l'attività di telemarketing è quell'attività di contatto che un'azienda mette in essere con l'ausilio del telefono e con l'aiuto di un operatore. L'attività spesse volte si concretizza in promozioni, in pubblicità di prodotti, spesse volte è volta a sondaggi d'opinione, nella maggior parte dei casi invece è volta alla vendita di beni o di servizi. Questo ultimo caso viene tecnicamente chiamato teleselling, quindi la vendita attraverso l'uso del telefono. Si vende attraverso il telefono, qualche tempo fa aveva creato speranza tra i consumatori la nascita del registro delle opposizioni, però molti dicono che non funziona, io mi sono iscritto e mi chiamano lo stesso. Il registro delle opposizioni è stato istituito con l'ultima riforma del codice della privacy, con la legge del 2009, la 166 del 2009. Ha riformato l'articolo 130, che è l'articolo del codice della privacy di riferimento per gli operatori di telemarketing e teleselling e la grande novità che questa riforma ha portato è stata proprio l'istituzione del registro delle opposizioni. Altro non è che un grande archivio all'interno del quale è possibile iscriversi dichiarando di non voler ricevere chiamate, telefonate, attività di promozione di qualunque natura rientrante appunto nell'attività di telemarketing, inserendo un numero di telefono. Il registro delle opposizioni è riservato alle sole numerazioni di telefonia fissa e non le utenze mobili. Però molti dicono io mi sono iscritto ma mi arrivano lo stesso le telefonate. Ciò succede perché da un lato il registro delle opposizioni non è efficace al 100%, perché molto spesso le società liberamente attingono da elenchi telefonici, esempio pagine bianche o pagine gialle, in altri casi attingono dalle proprie banche dati interne, ma non si preoccupano di incrociare questi numeri con i dati provenienti dal registro delle opposizioni. Chissà come mai non se ne preoccupano. Non se ne preoccupano perché ne traggono ovviamente un enorme vantaggio. Dall'altra parte però c'è il consumatore, l'utente, che è un po' superficiale e poco attento, perché molte volte è proprio l'utente che autorizza l'utilizzo del proprio numero di telefono semplicemente indicandolo nella miriade di autorizzazioni che diamo quando andiamo a comprare un prodotto. Gli esempi sono tantissimi. Possiamo pensare all'acquisto di esempio di una televisione in un grande magazzino, decidiamo di aderire all'estensione della garanzia legale perché è possibile farlo con garanzie convenzionali, ci fanno firmare ovviamente la modulistica preposta per l'estensione di questo tipo di garanzia, inseriamo il nostro numero di telefono e non flagghiamo solamente l'autorizzazione al trattamento dei nostri dati sensibili ai fini del rapporto contrattuale. Spesse volte andiamo a flaggare anche l'opzione con cui autorizziamo ad utilizzare quel dato anche per attività di promozione. Lo stesso capita anche online, immagino, perché molte volte ci sono quelle spunte che uno fa per andare veloce. Questo succede quando vogliamo acquistare spesse volte dei beni online, ovviamente è necessario crearci un account, nella creazione dell'account è fatto obbligo inserire i nostri dati sensibili. Anche in quell'occasione la maggior parte di noi, e io mi metto in testa a questa fila, io sono al secondo posto, benissimo, sono in ottima compagnia, dimentichiamo di leggere l'informativa o in maniera veloce perché abbiamo fretta, autorizziamo il trattamento anche per scopi pubblicitari, comunicazioni commerciali, comunicazioni promozionali e rimaniamo quindi in questo modo gabbiati. Perché c'è da dire che molte volte in queste schermate il flag c'è già e quindi tu dovresti toglierlo. Dovremmo toglierlo, sì, la velocità, la fretta di acquistare quel bene perché l'ultimo pezzo è rimasto in vendita, avanti, 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 sì, purtroppo accade questo. Tra l'altro diceva che anche il registro delle opposizioni vale per le utenze fisse, però adesso è sempre più frequente anche ricevere chiamate sui telefonini, sui cellulari, lì come si potrebbe fare? Anche in questo caso facciamo attenzione quando sottoscriviamo qualsiasi forma di contratto di servizi, veniamo contattati sul cellulare quando cambiamo operatore telefonico molte volte oppure quando sottoscriviamo un contratto di servizi per luce, acqua, gas. Ci viene chiesto di inserire un numero di telefono perché se hanno necessità di contattarci questo è assolutamente indispensabile e facciamo attenzione quando firmiamo quelle autorizzazioni a non appunto opzionare la possibilità che ci contattino per la proposta di qualsiasi, la vendita di qualsiasi altro bene o servizio. Se ci disturbano allo stesso modo, se siamo iscritti al registro delle opposizioni perché ci contattano sulla linea fissa, facciamolo presente all'operatore che ci ha contattati. A quel punto lui non sarà più autorizzato a continuare con la sua telefonata. Se invece ci chiamano, come dicevamo prima, sull'utenza mobile, chiediamo da quale elenco hanno estratto il nostro numero di telefono. Perché in linea teorica noi dovremmo conoscere tutte le aziende che sono in possesso dei nostri dati. In linea teorica perché io personalmente non ho questo elenco, non so a quante persone ho lasciato il mio numero di telefono. Si spaventerebbe vedendo... Probabilmente è così, sì. Dovrebbero quindi indicarci da quale elenco è stato estratto il numero. A quel punto noi già al telefono possiamo manifestare la volontà di non voler essere più disturbati da qualsiasi loro attività promozionale. E il codice della privacy fa obbligo per gli operatori di acquisire questa manifestazione di niego al consenso, fungendo in un qualche modo da parallelo registro delle opposizioni. Dovrebbe. Se l'operatore ci dice semplicemente e candidamente ma abbiamo ricevuto l'elenco dalla società, noi siamo solamente subappaltatori di questo servizio, noi chiamiamo i numeri che ci danno, chiediamo chi è la società per cui stanno chiamando e chiediamo all'operatore di interrompere la telefonata, contattiamo il numero verde della società che ha dato il compito di contattarci e manifestiamo a quella società la volontà di non voler essere più disturbati. Lo facciamo con un fax, lo facciamo con dei form già predisposti sui siti istituzionali delle aziende e lo facciamo con lettera raccomandata alla sede legale della società stessa. Quindi diciamo che le forme di tutela sono il registro delle opposizioni, la grande attenzione quando si fanno degli acquisti a quello che si firma, a quello che si spunta se si è online, diciamo che sono questi i sistemi che possono essere messi in campo e poi quest'ultimo che diceva che riguarda la telefonia mobile. Sì, c'è poi tutto un mercato di applicazioni nuove nate per i vari device che siano cellulari o che siano semplicemente dei tablet, perché alcuni tablet possono anche fungere da telefono o cellulare. Sono delle applicazioni che intercettano il numero di telefono e ci dicono chi ci sta cercando, in modo da poter scegliere di non rispondere a quella chiamata. È ovvio che con questo strumento ci guadagna chi sviluppa l'applicazione, ma per noi il problema non è risolto, viene semplicemente rimandato alla chiamata successiva. Quindi facciamo attenzione anche a non farci affascinare da questi sistemi tecnologici che, come dico, rimandano solamente il nostro problema ad un momento successivo. Un fenomeno che recentemente accade spesso, anche in orari poco consoni perché le telefonate arrivano anche alle 9, alle 9 e mezza di sera, è quello di telefonate, squilla, si risponde e poi dall'altra parte non parla nessuno. Anche questi sono in qualche modo addebitabili a questo telemarketing? Rientrano nel fenomeno del telemarketing sicuramente perché la telefonata muta non è altro che la conseguenza di un sistema automatizzato dei call center, qui viene appaltato il servizio di vendita e di promozione del prodotto. C'è un sistema attraverso il quale dal call center partano più telefonate rispetto agli operatori che sono disponibili in quel momento. Per cui rispondo alla telefonata, se l'operatore dall'altra parte in quel momento non è libero, non è disponibile, la mia chiamata viene messa in qualche modo in attesa, ma non mi viene detto di essere in attesa, sento dall'altra parte semplicemente un silenzio, da questo la chiamata muta. Purtroppo questo ha generato grande paura nei consumatori, non fosse altro per il grande fenomeno che è quello delle sottrazioni di credito dai nostri telefoni cellulari, dalle clonazioni dei nostri account, le clonazioni delle sim card dei nostri cellulari e tutto questo quindi ha portato grande paura. Il garante ha cercato in un qualche modo di regolamentare anche il fenomeno delle chiamate mute, imponendo agli operatori di eliminare il moto e quindi di creare quell'atmosfera che faccia in modo che l'utente contattato il consumatore si renda conto di essere in attesa. Forse sarebbe più semplice mettere una voce automatica registrata che ci dice siete in attesa del primo operatore libero. Io vorrei dire che il garante qualche tentativo lo fa, però diciamo che riuscire a fare breccia all'interno di queste compagnie, di questo sistema, sembra piuttosto complicato anche da parte di chi teoricamente dovrebbe essere l'autorità in materia. È assolutamente vero questo. Possiamo aiutare il garante mandando ripetute comunicazioni di malagestio delle nostre banche dati. Questo sì può essere fatto. Sono delle sanzioni in questi casi? Esistono delle sanzioni pecuniarie. Nella realtà pratica le pronunce del garante che ho letto ultimamente si traducono più che altro in un procedimento nei confronti dell'azienda che ha messo in atto una forma di pubblicità, una forma di telemarketing non rispettosa delle regole del codice della privacy e che si è conclusa con un impegno da parte dell'azienda stessa a interrompere quell'attività e a mettere in atto tutta una serie di attenzioni che si traducono poi in attività tecniche che il provvedimento non spiega, comunque volte a arginare questi fenomeni di malagestio delle banche dati. Poche volte sono state combinate sanzioni, ma recentemente grazie alle segnalazioni dei consumatori singolarmente eseguite oppure attraverso anche la segnalazione alle associazioni di consumatori alcune procedure sono state messe in atto. L'ultima cosa che esula un po' dal tema del telemarketing ma che è un altro problema di pancia per molti, perché insomma adesso con i telefonini si va dappertutto, si naviga Facebook, social eccetera eccetera, molte volte navigando senza fare poi niente di particolare ti arrivano dei messaggi che ti dicono complimenti, hai sottoscritto il nuovo servizio a pagamento alla modica cifra di 9 euro al giorno, faccio un esempio insomma, capita spesso e perché succede e in che modo anche in questo caso ci si può tutelare? Succede spessissimo e gli sportelli della nostra associazione e quasi quotidianamente vengono interpellati su problematiche di questa natura. L'attenzione che noi possiamo mettere è quella di navigare con attenzione, non farci abbindolare dai banner che promettono vincite di chissà quale natura, non ci facciamo affascinare da supposti articoli che ci racconteranno delle cose sensazionali che sono successe alla signora Paola perché ha mangiato quel determinato prodotto naturale, perché in realtà questi banner sono collegati a siti che vendono invece servizi in abbonamento. La regola vuole che l'attivazione di questi servizi ci venga comunicata attraverso un sms o una mail in maniera estremamente tempestiva ed è così nella maggior parte delle volte. Queste mail oppure questi sms devono contenere come spesso contengono il link o il numero di telefono o il rispondi per poter disattivare immediatamente quel servizio che abbiamo attivato involontariamente. È successo anche di recente. È legale il fatto che uno solo cliccando per leggere una notizia si trovi abbonato senza poi dare altri consensi? No, non lo è. Il garante si sta attivando anche per arginare questo fenomeno che è recentissimo. Purtroppo la risposta di chi dovrebbe vigilare su questi tipi di problematiche è sempre una risposta molto lenta. Quando invece il mercato internet, il mercato telefonico è velocissimo e ha risolto il problema dell'altro ieri, oggi discutiamo ancora di come risolvere il problema di ieri e stanno già progettando il problema di domani. Purtroppo la tempistica è questa. Noi quando invece ci troviamo nella situazione di vederci attivato un servizio perché ce ne accorgiamo dall'estratto conto del nostro conto corrente o dalla nostra carta di credito, blocchiamo innanzitutto qualsiasi forma di addebito proveniente dalla società che ci ha abbonato a quel servizio, scriviamo una raccomandata o un fax o mandiamo una mail al canale dedicato all'azienda dove comunichiamo di interrompere immediatamente quel servizio perché è stato attivato senza l'acquisizione del nostro consenso che ricordo deve sempre avvenire per iscritto. Quindi in questo modo noi consumatori possiamo avere la coscienza e contezza di quello che ogni volta andiamo ad attivare. Comunque questa è una considerazione. Il fatto che navigando magari con il telefono su Facebook o dove e cliccando per aprire un articolo ti arrivi un sms e quindi sappiano già qual è il tuo numero di telefono, la dice anche lunga, su come i dati sensibili di fatto siano alla merce di tutti. Sì, anche se i dati sensibili, ho scoperto, hanno un valore di mercato molto inferiore rispetto a quello che io mi immaginassi. Valgono quasi meno di un euro. Ah sì? Sì, valgono quasi meno di un euro. Ci vendono per così poco? Ci vendono per così poco. Ma insomma. E su questa cattiva notizia, almeno speravamo di contare un po' di più, io ringrazio l'Avvocato Enrico Tosi per averci dato queste indicazioni che speriamo possano esservi utili per fronteggiare la quotidiana battaglia contro gli operatori che ci contattano a qualsiasi ora. L'appuntamento con Giustizia e Bene Comune torna la prossima settimana. Giustizia, Bene Comune. Spazio in collaborazione con Federconsumatori Rimini.